incontriamo oggi alessandro taglioni per il suo libro la materia dio l'arte edito da spirali nel 2009 se non erro ecco la copertina in questo libro vengono riportate note di lettura in merito al testo dell'arte con esempi del rinascimento e della modernità in italia grecia in francia e negli stati uniti una traversata del dizionario e del glossario della lingua dell'arte dei suoi strumenti e dei suoi mezzi che affronta i testi di massimo bontempelli benedetto croce john de wey ferdinand de saussure george di di huberman mircea eliade rené girard hegel giovanni papini sant'agostino sant'ambrogio armando verdiglione e altri si tratta anche dei luoghi comuni delle dottrine delle ideologie e delle profezie che ciascuno degli autori filosofo linguista logico teologo a nota con effetti nei decenni nei secoli successivi quanto all'avvenire dell'arte e della cultura io ho avuto la fortuna di leggere due volte questo libro e lo leggerò ancora è un libro denso è una traversata della lingua dell'arte che non ho trovato in nessun altro autore non parlo di critici d'arte come barilli o bonito oliva che esistono su un altro piano ma piuttosto diciamo di ricercatori come ans betting o come di di huberman o filosofi come jacques rancier cominciamo da una da una frase che è nel primo capitolo ed è questa tutto è cominciato con marcel duchamp ci puoi dire qualcosa attorno a questo avvio così deciso rispetto a a quella che pare una contribuzione della contemporaneità del moderno marcel duchamp è citato per come esempio di pretesto forse più che esempio di di arte di avanguardia non la cosiddetta arte di avanguardia che è una diciamo soprattutto una prerogativa dell'arte di un certo novecento di un certo periodo del novecento e che trae il suo nome da che cosa da un modello militare anzitutto c'è questa avanguardia si è dimostrata poi per varie ragioni un una produzione una produzione di tipo militare da cui anche il nome avanguardia duchamp adesso poi si possono dire moltissime cose intorno la sua opera comunque nel libro ne parlo insieme e con altri esempi come dire i tipi di esempi che ho messo nel libro si potrebbero quasi diciamo così suddividere in due categorie ci sono le profezie negative da una parte e dall'altra l'esempio la scuola e il maestro ecco forse sono questi due se volessimo in qualche maniera essere manichei diciamo ecco così per giusto per per dire il caso di duchamp di world di pochi altri che ho citato fanno parte delle profezie negative cioè quali sono queste profezie negative le ho un po alcune citate rintracciate in una parte diciamo la filosofia soprattutto relativa a hegel e a croce perché profezie perché alcuni pensatori come appunto loro e altri in qualche modo hanno enunciato una profezia negativa perché perché sono si sono trovati a enunciare alcune cose che che sono avvenute tra virgolette che si sono poi presentato all'incirca cento anni dopo essere state formulate si fai riferimento per esempio alla fine dell'arte in hegel tra le varie profezie sì sì perché hegel aveva proprio soprattutto penso nelle lezioni a voce diciamo non negli scritti veri e propri ma nei testi di estetica che suppongo da prendere anche con le pinze perché sono stati da quello che ho capito sono stati trascritti dagli allievi no si enunciava proprio questa idea assolutamente nuova per il per l'epoca per cui l'arte era soprattutto qualche cosa che doveva eh sorgere da un viaggio interiore no questo viaggio interiore bisognava entrare dentro se stessi e quindi alla fine eh l'artista era qualche cosa che faceva era il traghettatore di di qualche cosa che che doveva essere preso all'interno di sé e portato al di fuori di sé no era una un viaggio però non si tra virgolette era un viaggio tra virgolette tutto spirituale tutto eh interno e e questa cosa è è un è stato si è rivelato un pensiero forte sempre tra virgolette perché cento anni dopo questo viaggio interiore è diventato il cavallo di battaglia dell'arte non moderna dell'arte che poi è stata chiamata contemporanea e che è stata chiamata con vari nomi e questi nomi io li metto un po' eh in una carrellata perché sono lo stesso nome cioè l'arte concettuale è lo stesso nome dell'arte di avanguardia è lo stesso nome del del naif della della pop art e del e di altre forme tipo la che so il post moderno l'arte povera performance e le installazioni esatto per fini per concludere per concludere cioè che sono la performance è quella che che in seguito alle profezie negative cerco un po' di lavorare maggiormente tutte le arti performative sono quelle che hanno scalzato in qualche maniera la tecnica e la macchina e la tecnica sia la cultura sia l'arte perché la performance è come come si può ben immaginare è ciò che ha il raso al suolo tutte le le produzioni artigianali o che è che tentano insomma che hanno tentato e che tentano di di fare piazza pulita non solo della tecnica ma anche della macchina vale a dire della cultura e della scrittura e del testo che c'è sia prima sia durante sia dopo l'opera artistica e questa è la questione che si tenta con la performance di cancellare la scrittura e quella è la cosa più angosciante e terribile che si tende a non riconoscere che anche nell'arte come in altre produzioni, il testo dell'arte, il testo essenziale, noi abbiamo potuto vivere fino al 1400, al 1500 di un'arte che aveva una solidità testuale dietro la produzione di arte italiana fino al Rinascimento che era colossale, enorme, assolutamente essenziale per l'arte stessa e per la produzione artistica e non solo artistica e adesso non esiste più apparentemente, tutta la parte del testo che sta a monte della produzione artigianale si sta sciogliere, si sta perdendo, se non c'è più scrittura, se non c'è più lettura è chiaro che la performance prevale. Sì, c'è un capitolo dal titolo La nascita, la festa dell'origine e la nascita del supertecnico, se puoi precisare questa questione del supertecnico che per me è la metafora dell'artista che si manca dell'artista come homo duplex, dell'artista che fa come se fosse quell'artista che sarebbe se lo fosse, cioè rispetto anche a un'altra definizione che dai di alcuni artisti come l'artista cerimoniere, se puoi precisare un po' queste frasi, queste definizioni che sono un po' dense, questa del supertecnico che mi sembra che va a spasso con l'artista cerimoniere, il supertecnico mi sa che è per lo più un artista cerimoniere? Sì, il supertecnico è sia l'artista ideale, secondo l'epoca, cioè è l'artista ideale nel senso che è colui che può benissimo mettere in piedi una performance in ambito fieristico ed essere specializzatissimo in qualsiasi performance iper specializzata, ma non in grado di fondare una scuola o di fondare una bottega, cioè l'ipertecnico è colui che può benissimo sapere benissimo usare o manipolare una molecola, ma non sa come funziona un triciclo, oppure non sa far funzionare una ruota, hai capito? Cioè questo è l'ipertecnico alla base, non solo, l'ipertecnico è anche l'idea dell'eroe, c'è l'idea dell'eroe dentro il cerimoniere che dicevi, c'è l'idea dell'artista eroe, quello che quindi si deve sacrificare. La produzione artistica, anche se fa parte del bordo che non è funzionale, non entra nel funzionamento l'arte, pur non entrando nel funzionamento, comunque sia chi opera in ambito artistico deve comunque rappresentare l'aspetto eroico, cioè deve essere comunque chi con la sua performance eroica si sacrifica o nel bene o nel male, quindi deve sacrificare o la sua, poi si può scegliere che cosa sacrificare o meno, però l'idea è questa. Ci sono testimonianze in questo senso che non vengono lette anche di super performer, di super eroi artisti che decidono di andare in pensione e che hanno la sensazione di non aver mai cominciato, ci sono questi aspetti, una questione è singolare nel titolo, che insomma tra questi tre termini Dio, ci sono molti modi per parlare di Dio nell'arte, per esempio Hans Betting che cerca di fare una lettura che dovrei dire cristiano ortodossa dell'immagine quasi, qua lo introduci rispetto a questa lettura interessantissima che fai su Sant'Agostino e la questione della visione che non è il vedere come funzione umana e quindi se puoi accennare a questa singolarità che c'è nel titolo stesso, la materia Dio e l'arte, com'è che interviene in questo tuo lavoro, Dio? La scrittura, Dio opera la scrittura, teoricamente Dio opera la scrittura, Dio, tornando un po' anche all'accenno di prima, la questione della scrittura è sia la questione del libro, sia del testo, sia della tradizione, cioè se noi abbiamo un esempio proprio grandioso lampante che adesso io sto cercando di affrontare perché ho cominciato a esplorare con un altro testo che è dedicato al Quattrocento, che ritengo sia il periodo aureo, il periodo aureo dell'arte, dopodiché avviene già con il Cinquecento il lento declino, il lento declino da questo periodo aureo. Allora, in questa carrellata che poi ho esplorato successivamente e che segue un po' anche a questo testo, ho cercato in pratica di svolgere successivamente alcuni elementi che ho messo nel libro che stiamo dicendo ora, riguarda proprio un'esplorazione che va sia, insomma, a partire da una domanda, perché o come, come è avvenuto che, perché proprio nel Quattrocento e non solo nel Quattrocento, anche nel Trecento, nel Quattrocento e parzialmente in Cinquecento abbiamo la perfezione, tra virgolette, nell'arte, perché c'è una questione cattolica alla base, c'è una questione cattolica che è stata elaborata attraverso scritture di vario tipo, che hanno man mano portato a qualche cosa che è assolutamente straordinario. Questa questione cattolica ha tutta la base. Non è la religione, non è nel senso della religione? No, non nel senso della religione, è proprio il testo, la scrittura, lo sto dicendo questa cosa in totale assenza di credenza, di praticantato, però io da lettore d'arte, perché questa cosa parte soprattutto da una costante, infinita lettura di opere di quell'epoca, mi sono trovato a non poter che constatare questa cosa importantissima che è avvenuta e che a partire da questioni teologiche, da questioni di scrittura, a partire da Dio, a partire da Cristo e quindi è un po' questo il testo che bisogna esplorare, attraverso i padri della chiesa, il testo biblico, le testimonianze anche di scrittura, di immagini che ci sono state. La questione del cerimoniere, per esempio, che ho detto prima, il cerimoniere esisteva in quell'epoca, ma non è quello che intendiamo adesso, quello che intendiamo adesso in modo negativo, nella profezia all'interno della profezia negativa è, per dire, la rock star, ecco, quello è il cerimoniere dell'epoca. Nel Quattrocento il cerimoniere era quello che organizzava la pièce teatrale relativa agli episodi biblici, si chiamava cerimoniere per dire, ed era quello che organizzava, era un po' l'angelo, c'era un angelo nell'ambito teatrale che gestiva la pièce, non andava da solo la pièce, c'era un cerimoniere che la faceva, un burattinaio, diciamo così tra virgolette. Sì, gestivano anche i pranzi e le cucine nelle grandi occasioni, è vero? Ecco, vedi. E quindi, quando noi andiamo a vedere un'opera di Piero Francesca, per esempio, capiamo che c'era una lezione matematica, perché lui era interessato alla matematica, capiamo che c'era una lezione teologica, perché tutte le scritture e le immagini del Quattrocento erano a partire da sermoni, o erano a partire da sermoni, o erano a partire dai codici miniati, quindi da libri. Quindi c'era una tradizione orale da una parte e una tradizione testuale dall'altra. In base a queste scritture avveniva poi una terza scrittura, che era quella di Piero, piuttosto che di altri, quindi ci sono scritture, sono scritture queste, importantissime, sono testi, hai capito? E questa è la questione che bisogna riaffermare e riportare, insomma. Cioè il messaggio deve essere proprio forte in questo senso, perché altrimenti appunto ci troviamo nel naturalismo, adesso che sia, è discutibile se uno dice, ah ma io non credo, non è quella la questione, la questione è proprio il testo. Una questione ancora, nella postilla scrivi essenziali per acquisire i criteri di lettura gli scritti di Armando Verdignone, in particolare si tratta qui di alcuni testi degli anni 70. Ora, io stesso questi criteri di lettura in gran parte li ho acquisiti in questa modalità della formazione e della lettura dei testi di Armando Verdignone e ti pregherei di dirne qualcosa in questa occasione. L'elaborazione che io ho cercato di svolgere e diciamo parzialmente cerco ancora di portare avanti è chiaramente la lettura di un'impostazione teorica e di scrittura che si avvale del suo insegnamento, io se dovessi, non so, non dico oggi, né domani né dopo domani scrivere un testo di, diciamo così, tra virgolette scientifico intorno alla scienza della parola, alla psicanalisi, alla cifrematica, sono assolutamente sicuro che devo leggere quantomeno Freud, poi devo leggere Lacan e poi devo leggere Verdignone, non necessariamente in questo ordine, nessun ordine. Sì, sì, non è ordinale la cosa, è cardinale. L'elaborazione, dunque, nel caso di questo libro che si sia trattato di testa o la sembianza è perché, diciamo non c'era una ragione proprio specifica in quel caso, però ho trovato essenziale intanto l'elaborazione intorno alla sembianza, perché fu la prima e quella da lui ritenuta anche una delle più importanti, lui stesso. Sì, sulla dimensione dell'immagine, sì. Sulla sembianza, sì, tutto il testo, la sembianza è dedicato naturalmente non solo alla sembianza, è già una base, insomma, da cui penso poi sono sorti anche altre elaborazioni. Ecco, il testo di Verdignone è ancora essenziale intanto per la lettura di quello che è avvenuto rispetto ai contributi principali del pensiero, non europeo. Cioè, a partire dal testo di Verdignone, noi possiamo trovare una nostra lettura e un'altra lettura del testo occidentale. È un tipo di scrittura, quella del professore, che ci permette di poter leggere il libro dei libri, cioè ci sono libri che sono interessantissimi perché possono essere letti, si possono leggere. Qual è un tipo di libro che è interessante leggere? Perché è quel libro che è assolutamente essenziale e può essere letto sia da chi è legato a quel settore da cui parte quel libro, sia o no. Cioè, è quel libro che è interessante che sia letto da me, anche se non sono uno chef. Io non sono uno chef, eppure questo libro di cucina è interessantissimo e mi serve anche se io sono un idraulico, sono un pittorio, un artista, sono... Si sente male adesso, perdono? Sì. E' partito il volume, non sento più la voce. Non c'è, c'è. Senti? No, non ti sento, c'è la voce frammentata, si poi dovrà fare dei tagli nella... Adesso mi senti? Adesso sì, adesso sì. E poi farà un taglio qua, prosegui, ok? Perché poi va in diretta. Dove eri rimasto? Cioè, la lettura... Cerco di fare un resumé. Allora, la lettura del testo del professore, di Armando Griglione, è una di quelle letture che ti permette di fare una lettura del testo occidentale, perché come altri libri che mi è capitato di leggere, nel caso suo, si tratta di quel libro che, anche se non sei in ambito settoriale, può risultare per te lettore di estremi interessi. Cioè, c'è un tipo di libro, un tipo di lettura che travalica la settorialità, travalica l'interesse specifico, eppure può essere utilissimo, può essere uno strumento utilissimo, perché come mi è capitato anche per libri che vanno nell'ambito, in altri ambiti, artistico, teologico, filosofico, ci sono certi tipi di scrittori filosofi, certi tipi di ologie di scrittori settoriali che intendono la scrittura intellettuale, intendono l'intellettualità, per cui risultano di estremo interesse per te, al di là del settore in cui ho. Ecco, questa è la questione. Naturalmente il testo di Verdiglione va oltre questo, perché ci sono anche moltissimi altri aspetti, no? Sì, noi ne parliamo rispetto a questo di oggi. Sì, noi siamo in conclusione e vorrei leggere un brano che sembra proprio fatto apposta rispetto a quello che hai appena detto, ovvero che la questione di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando e di cui proseguiamo a parlare, la questione dell'arte non è una questione che riguardi esclusivamente chi ha un interesse per l'arte, chi si ritiene artista o critico o a varie ragioni abbia a che fare con questo, a un livello molto più importante e alto è quel brano. Non c'è filosofo, linguista, matematico, che prescinda da un'esplorazione del discorso sull'arte, raramente arrivando alla testimonianza, cioè raramente arrivando a un'arte della scrittura e della lettura. È molto bello e mi pare proprio che vada in questo senso, cioè che il filosofo, cioè coloro che sono tecnici appunto nel loro settore, il filosofo, il teologo, il fisico, il musicista, non hanno solo da confrontarsi con il loro specifico, con la loro arte, ma hanno da leggere altri testi. Ecco, io penso che questo libro, che è molto importante per me, come provocazione, io lo propongo a coloro che hanno letture specifiche, come per l'appunto, che ne so, i filosofi, i logici, i teologi, a maggior ragione, visto che c'è anche Dio nel titolo. C'erano evidentemente molte altre questioni e ci diamo appuntamento per qualche altra conversazione, Alessandro, che cosa dici? Se c'è l'occasione attorno a questioni specifiche nelle letture e nell'esperienza. Io ti ringrazio e a te la voce se c'hai qualcosa ancora da accennare. Ma guarda, ci sarebbero tantissime cose da dire, solo che è un po' il tempo poi vola. Comunque, possiamo intanto dire che, per esempio, mi interesserebbe proseguire, anche a partire da un testo che possiamo vedere insieme, di proseguire il ragionamento. Sempre con questi stessi temi, io posso inviarti un prossimo testo e poi lo pubblichiamo, non lo pubblichiamo non ha importanza. Però a partire da quello possiamo fare un dibattito, una conversazione che penso possa essere davvero interessante. D'accordo, sì. Io ho letto recentemente questo libro di Jacques Rancière, ma non ho tratto così tanti argomenti per interloquire con te, ma ho altri libri. Apparentemente è importante, ma resta sulla superficie dell'immagine. Bene, grazie ancora Alessandro Ottaglioni.